Buonasera a tutti, sempre più nella fase decadenza, l'impero di umano è un'estrema decadenza, proprio dalle fini, insomma, quando c'è il Barbaro, c'è pronto, però c'è il Barbaro, al telefono, c'è chi è? C'è Attila all'Uno che la vuole, non ci sono, c'è Alarico, e c'è un mitico film con Abba Tantone, faceva l'attività di Dio, in una fase preleghista in cui i miranesi arrivavano a Roma per distruggere Roma, e vabbè, ma questa è stata storia, entriamo nel delirio più delirante, no, mi fa piacere una cosa, che io a volte, cioè il video che faccio stasera non avrà, avrà sicuramente più visualizzazioni del video di ieri, anche se secondo me il video di ieri era più, vabbè, però alcuni video che faccio, che sono di poesia, e a distanza di anni ho dei commenti, perché alcune persone sono appassionate di Baudelaire, Berlè, quindi questo mi conferma nella mia idea che la visualizzazione è momentanea, cioè nel senso, dei giorni, che succede, arriva, aggiornamento disponibile, no, non mi voglio aggiornare, voglio restare nell'impero romano, anzi, con i sumeri, voglio un computer col programma sumero, scritto a sumeri, no, dicevo che alcuni video che ho fatto, sono fatti a questo punto, questo si è al 1200, 1200, e buonasera, sono già, acidebava, no, acidebava, no, dicevo, salutavo, acidebava, che rimanda a Rambo perché alcuni video che ho fatto, no, siamo al 1219, questo è il 1220esimo video, dicevo alcuni video che ho fatto, li ho fatti sulla poesia, e uno, praticamente un anno fa, avevo fatto una serie di video su alcuni poeti maledetti, che poi riprenderò, avevo fatto, Baudelaire, non mi ricordo, acidebava, che saluto, che appunto mi ha risposto su un video in cui non avevo la barba, e parlavo di Gerardo Nerva, avevo un rispetto ancora da brava ragazza, good boy, e mi fa piacere perché quei video vuol dire che alla fine hanno un senso nel tempo, nel senso che magari arriva un commento ogni due anni, però a distanza di tempo qualche commentatore arriva, perché questo di cui parleremo oggi certamente magari avrà tanti commenti, ma poi fra tre mesi, ma chi se ne frega la cippa, no, del numero di cui parliamo oggi, 470, a base, 746 Zagos, facciamo il preciso, Zagos Zenith, attacca Britannia, Ah, eh sì, ho capito, ieri parlava appunto, sempre saltando di palo in frasca, dicevo ci sono dei video su TikTok, del Star Shop di Roma, che fanno dei ticottini, insomma, avete presente quando si cambiano le, io quelle cose le detesto, honestamente, ma non perché, però so anche Carucci, no, che arriva il cliente nella fumetteria Manga, che sembra Manga, poi mi ha detto Ionana che c'è anche a Milano, che c'hanno nel Sottoscala, anche dei fumetti, e naturalmente, a partire vedendo i video, ma naturalmente Zagos lì non sanno, secondo me non sanno neanche chi è Zagos, e questo ponderà dei problemi alla, alla Stacola, alla Bonelli, perché ovviamente anche negozio come la Star Shop, che mi sembra abbiamo, se da Roma o da Milano, credo che Zagos lo gestisca poco, anche perché, ora, io sono contrario al manicheismo, sono contrario al manicheismo degli zagoriani, che a volte sono manichei, ma sono contrario anche al manicheismo degli mangiani, dei manga, quindi nel senso Zagos è un vero e importante il fumetto italiano, ma naturalmente, e c'ha tutti i suoi perché, però, e poi, cioè, credo che si possa fare un po' tutte e due, naturalmente, per uno che legge Manga, dicevo, la copertina è sempre di Piccinelli, di solito si firma sempre Piccinelli, e qui c'è la prima di Piccinelli, di Zagos in catene, perché rimanda alla saga degli anni settanta, di Sergio Bonelli con Manetola, allora, la storia l'ha fatta Rauk, qui c'è anche la, la, libertà è morta, e Moreno Burrettini, che è il curatore di Zagos, secondo me, e secondo me che, l'ha fatta, no, scusate, la copertina l'ha fatta Piccinelli, ora cerchiamo di raggiungere le idee, e la storia l'ha fatta Rauk, e Rauk ha fatto anche quello che ha fatto tutta la saga di Racosi, questa secondo me è meglio, la saga di Racosi, perché ovviamente è un omaggio a Sergio Bonelli, della storia degli anni settanta, quindi come omaggio ci sta tutto, è fatto bene, ripercorre in chiave lunghissima, come al solito la Bonelli, ora dirò le stesse cose di sempre, che la Bonelli eccede nel parlato, che il parlato uccide il disegno, e questi ballon, insomma, ma che poi Bonelli, non è che fa dei balloncini, fa dei ballonzoni, quindi insomma, ammazzano un po' il parlato, ammazzano un po' il disegno, Zagoro dice, la porta è chiusa, proviamo le chiavi che aveva il guardiano della prigione, altrimenti useremo le maniere forti, la porta è chiusa, sfondiamo, secondo me questo è un problema, nel senso Rauk, è ovvio che questo fumetto è costruito come se fosse il proseguo di Manetola, di Sergio Bonelli negli anni settanta, ora io capisco che lo spazio e lo spazio e il tempo sono due concezioni mentali, quindi che non esistono in realtà in natura, non esiste lo spazio e il tempo, time, space, diceva appunto il famoso, famoso, quello famoso, no, quello Elliot, The Vast Land, ma a parte The Vast Land, però ovviamente nel senso che, allora per forza gente si butta sui manga, qui siamo rimasti negli anni settanta, e da qui non ci muoviamo, dice Preto sempre, le due cose sono sempre, vanno viste noi in maniera manichiale, questo fumetto, questo fumetto degli anni settanta, va benissimo, il 246, va benissimo, naturalmente, e Rauk, come scrittore di fumetto degli anni settanta, a parte c'è tutta una scena in cui, Zagor dice, non ti racconterò, ti racconterò tutto di manetola, ma dalla prima volta, in realtà poi lo sta già raccontando, sta un po' di presa in giro, che addirittura c'è un'immagine in cui, ah scusate, i disegni sono di Stefano di Vitto, e di Testi di Rauk, Stefano Vitto, racconterò, è perfettamente negli anni settanta, cioè è un disegnatore che è stato, che lavora come un disegnatore negli anni settanta, che, voglio dire, non è che gli Zagor negli anni settanta erano brutti, è il problema, è che sono fuori contesto storico, secondo me, questa è la mia opinione, Marche mi diceva, no Zagor è come Palazzo della Signoria, ma non credo che il paragone sia, o di Landog, non credo che il paragone sia molto calzante, per tutto il Palazzo della Signoria è già stato costruito, e nessuno ci rimette mano, è ovvio che nessuno lo cambia, mentre Zagor esce ogni mese, quindi ogni mese la storia va scritta e disegnata, quindi qualche miglioria, qualche cambiamento si possono aggiungere, e poi se poi metteci a Palazzo della Signoria, un McDonald's dentro, no, ora scusate il tono, ma, dicevo, che in realtà, in tutta questa larga, flashback, in cui lui dice, non ti racconterò tutta la storia, e poi in realtà gliela racconta, e ti dirò, prima o poi, in realtà, poi lo stai già dicendo, anche te lo sto dicendo, ma, naturalmente, serve a quei lettori, realmente, Raucca fa benissimo, a mettere un flashback, per spiegare ai lettori, giovani, secondo me, chiunque abbia comprato questo fumetto, l'ha letta negli anni 70, questa storia, nel 73, no, l'ho letta nelle ristampe, onestamente, mi sembra fosse del 73, delle parole che si concluderanno, era il, quando, una delle classiche città, la di Zagorina, la storia di libertà e morte, va bene, va bene, e certamente, negli anni 70, secondo me, molti lettori, hanno già letto, addirittura, hanno i numeri originali, di questa storia, io non ce li ho, ho delle ristampe, cartonate, ma, ma, ripeto, i disegni di De Vitto e di testo di Rauch, va benissimo, cioè, io li leggo, ed è una cosa, una sensazione per me prustiana, nel senso che, capisco poi in fondo, il senso di questa cosa, che è, mantenere il lettore fermo, come fosse un salto indietro nel tempo, che, è anche piacevole, non voglio dire, non dico che è spiacevole, nel senso, uno lo compra un fumetto, e dice, toh, un fumetto anni settanta, disegnato, in perfetto stile anni settanta, e con una storia anni settanta, dall'altro qui, Rauch utilizza molto Chico, che per una volta tanto ha, ora, io non vi spiego, che in Britannia, e l'Isola, dove sono, dove fu ucciso Manetoda, quindi, si ripercorre, un po' la stessa storia, arriva la nave, il tradimento, ora non vi dico, se c'è un tradimento o meno, Zagor, se è in catena, è ovvio che, in realtà, la Bonelli, tende a fare un po' spoiler, perché già dalla copertina, capiamo che Zagor, verrà catturato, gli inglesi, cioè, e nell'ultima parte, in cui c'è scritto, la nave del capitano Jack Reed, però, qui stanno facendo, un largo spoiler, cioè, la prefazione, il numero seguente, sta facendo, un larghissimo spoiler, perché, arrivato a quel punto, se io leggo la nave, il capitano Reed, ah, il capitano Reed, e, mi fa spoiler, cioè, la Bonelli si fa spoiler da sola, che è bellissimo, cioè, a volte ci freddono a noi dei video, avete fatto spoiler, no, la Bonelli si spoiler da sola, cioè, qui, arrivi e già capisci, che Zagor è stato catturato dagli inglesi, quindi, cioè, appena arrivi, dice, appena, prima o poi sarà catturato, che è un bello spoiler, questo, l'isola degli spetti, il capitano Reed, sì, vabbè, pare che poi, il mese prossimo, non finisce, poi inizierà un'altra Sagona, spero, nell'ambito un po' più, la Rauk, voglio dire, essendo senese, no, io sono imparziale, come il Catone, l'Uticenzone, insomma, no, no, ma, il Rauk, secondo me, è più bravo di Moreno Burattino, è molto più bravo, nel senso che, tralasciando il fatto, che sono tutte e due, nello stile, anni settanta, e da lì non li schioda, neanche il diavolo, si arriva col furcone, e su questo siamo d'accordo, però Rauk costruisce delle storie, molto, che abbiamo Cico, che ha un ruolo, cioè, un ruolo importante, e finalmente lo vediamo agire Cico, personalmente, se no, sto Cico, perché Rauk si deve essere posto il problema, sto Cico, che gli fa, ma fa, qualcosa fa, ma gli fa, e quindi, in questa storia, Cico ha un ruolo anche importante, quindi non ho molto da dire, nel senso, poi la storia finirà il mese prossimo, vi direi un po' le stesse cose, diciamo che la storia si legge bene, nel senso, si legge bene pensando a un fumetto, che è stato leggendo, un fumetto degli anni settanta, scritto nel 2023, c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel cortocircuito temporale, non lo so, ecco, non lo so, non lo so, mi sembra appunto, che a questo punto si va, naturalmente, io non so, proprio il disegno, vedete, è proprio anni settanta, anche se in realtà, si capisce, per esempio, da come fare labbra, di De Vitto, che in realtà, non è un, cioè, negli anni settanta, queste labbra, questa espressione, non l'avrebbero fatta, quindi, e dai dettagli, si capisce che, per esempio, il capitano Reed, che rimanda ovviamente a Moby Dick, al protagonista, proprio, parlavo di Moby Dick, e quel, vabbè, come si chiamava, come si chiamava il, il, eh, non mi ricordo, quei gochi, quei, vabbè, aspettate, guarda, cerco il, 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 eh, buonasera, trovarlo, eh, come si chiamava, Nantaker, Capperla, entro in scena, vabbè, insomma, l'incha, il, il nativo americano, indigeno, mh, che ovviamente, eh, eh, che ovviamente, eh, non c'è ovviamente il nome, ora dovrei cercarlo, ah, per cui, no, va bene, il, quello lì, tutto tatuato in, in Moby Dick, insomma, che è il, il fuciniere, delle isole del Pacifico, tutto tatuato, ovviamente, rimanda per certi versi, a quello lì, quindi, citazione anche di Moby Dick, eh, Cico, come dico, Cico, storia, cioè, proprio, scusate, è raffreddore, perché è anche piovuto oggi, quindi, c'è anche queste scene con gli spisi, è proprio anni settanta, cioè, si capisce da alcuni dettagli, tipo, da questo, dal Capitano Reed, che manda a Pequod, come si chiama quello di Moby Dick, alcuni dettagli ci fanno capire che non sono più gli anni settanta, naturalmente c'è gli indigeni, gli inglesi, i cattivi, il colonialismo, gli schiavi, anche questi volti, si capiscono, non sono proprio anni settanta, quindi, è un, cioè, un tentativo di, di ancorarsi a un, naturalmente, cosa succede quando si fa un fumetto anni settanta, ovviamente, qualcosa del tuo tempo, poi si, è come quando fai film in Peprum, che quello, il legionario si escorda l'orologio, che è quello che ha il centurione, gli spunta il telefonino, eccetera, eccetera, quindi, a voler essere, a voler cercare, ma, naturalmente, l'impaginazione, del disegno, anche questa, quest'ombra così, si capisce che, non è degli anni settanta, naturalmente, la, il bilanciamento, bianco scuro, voglio dire, fatto bene, c'è un fumetto fatto bene, voglio dire che è fatto male, è un fumetto fatto bene, però, è rimasto agli anni settanta, questo, a me, che ho 55 anni, mi può far piacere leggerlo, leggere un fumetto anni settanta, naturalmente, non c'ha, le tematiche sociali della Bonelli, sì, contro lo schiavismo, siamo tutti buoni, siamo tutti fratelli, rimangono sempre molto generali, generalistiche, senza poi entrare nello specifico, appunto, il fumetto argentino, molto spesso, entra molto nello specifico, nel sangue, nella vita reale, nel senso che, alla fine, il Zauro è un'orale positiva, che la lotta contro il male, senza paura, sempre ci salverà, e siamo tipo, Gig Robo, cuore a ciaio, cuore di un ragazzo, che senza paura, sempre lotterà, perché in realtà, siamo noi, i veri figli, dei manga, degli anime, non quelli moderni, però, quando non c'è, quello che si evita, costantemente, la Bonelli, anche in Dilan Dog, dove invece, a volte, alcuni tremi, tremi, temi, erano stati trattati, insomma, anche pesanti, e invece, ora, si sono stati rimossi, tutti, il tema della drogia, altre cose, il neonazismo, la censura, insomma, Dilan Dog a volte ha trattato, delle cose un po', tipo, quando ci fu un intervento parlamentare, con i fumetti diseducativi, c'era anche Dilan Dog, oggi, Dilan Dog, nessuno farebbe un attacco, ma neanche, l'estrema destra, più, più nera, perderebbe cinque minuti a parlare mai di Dilan Dog. Però, questo, vorrei dire alla Bonelli, non è un bene, è un male, quando il nemico ti ignora, significa che tu non sei più pericoloso, ma il nemico non è la destra, è la censura, quando la censura non ti considera più, vuol dire che non hai niente di esplosivo da dire, e quando la censura ti attacca, allora forse ancora qualcosa da dire ce l'ha. E questo è un peccato. Naturalmente anche Zagor, cosa volete, ci dice che gli schiavi non bisogna ribellarsi contro i sfruttatori, siamo tutti d'accordo, qui siamo quasi a Sabatini, Capitan Blood, cioè qui la scena è proprio quasi comica, nel senso che probabilmente Rauch ha uno spirito anche un po' godiardico senese, in cui ripropone i film degli anni 30-40, in cui il cattivo va nella prigione e dice al buono che è imprigionato tutto il suo piano, che è proprio, credo che sia uno dei topus fumettistici più topi della storia del fumetto, quindi è veramente un fumetto costruito, vorrei dire a volte anche un po' meccanicamente, anche se in Rauch c'è un po' il dizium, si ha un po' l'impressione che lui lo faccia meccanicamente e un po' ci si diverta e lascia un po' delle tracce, come dire, tipo questa scena qui del comandante cattivo, sembra il prigioniero di Zendo, cioè delle cose che, secondo me, Rauch lascia un po' la traccia per far capire io faccio sta roba, però non ci credo fino in fondo. Questa è una mia impressione da senese che guarda un altro senese, perché nel fondo di ogni senese c'è un cecco angiolieri che sghignazza alla grande e secondo me anche in Rauch c'è un bricio di cecco angiolieri e rende il fumetto un po' meno, rende questo guizzino, nientanto tra le tavole si nota uno sghignazio, sento una risatina, che secondo me è quella di Rauch, che è bravo, nel senso anche Cico, ecco Cico disegnato, boh non lo so, Cico vabbè, Cico, Cico no, sì con questa faccia da bambina, non lo so, a volte è difficile disegnare, Cico è difficilissimo a disegnare. Ora non ritornerò su Cico, giustamente le critiche su Cico che tutti lo volevano uccidere, hanno spinto gli sceneggiatori a Bonelli a dargli un'attività eroica, se no, se dobbiamo farlo fuori. Va bene, chiudo qui, non ci ho montato a dire, vediamo così, io ho capito già come si conclude, perché la scena finale dell'attacco e vabbè, si capisce chi interverrà a salvare Zago, io ho già capito. Ripeto, questo autospoileramento da Bonelli sarebbe fa, perché qui già capisci la fine dei mani degli inglesi, cioè dalla copertina io ho già capito che appena sbarcano, scusate, appena sbarcano saranno fatti i piccionieri degli inglesi, è capito, allora la copertina dite a piccinieri non fa questo spoiler piuttosto spoileroso. La nave del capitano Jack Reed e questo è uno spoiler piuttosto grosso per chi ha letto il loud, perché a un certo punto il capitano Jack Reed dice come la nave del capitano Jack Reed e allora e qui dovrei far spoilere io, scusate, ma perché la Bonelli si autospoilera da sola? Questa è una domanda che mi rimane nella testa, ma non ho risposte, perché è ovvio che questa cosa Sergio Monelli non l'avrebbe fatto, si sarebbe fatta autospoiler da solo, ma questa, direbbe che non è un'altra storia.